Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale! Oggi continuiamo con i video tutorial natalizi. Vi faccio vedere come creare questi simpatici porta-allumini riciclando dei semplici vasetti di vetro, quindi magari delle marmellate o dei sottaceti, e aggiungendo pochissimi altri elementi, quali il panno lenci, la juta, qualche nastrino o gavetta e applicazione. Io li ho pensati sia come decorazione natalizia appunto, e quindi metterli magari sfusi sulla tavolata di Natale o sulle cene invernali, sia per creare dei veri e propri centri tavola, che vi farò vedere nei prossimi tutorial. Bene, partiamo, vi faccio vedere come procedere, sposto un attimino i miei esempi. Allora, vi serve un vasetto di vetro vuoto, in questo caso io sto utilizzando quello della maionese, abbastanza grandino. Sposto un attimo, che sennò vi fa confusione magari. Allora, gli esempi, come potete vedere, io li ho realizzati utilizzando del panno lenci, quindi una semplice striscetta, ho poi usato la tecnica dell'intaglio, e ho fatto la decorazione. L'esempio di oggi invece ve lo voglio mostrare utilizzando la juta, che è una versione nuova rispetto all'anno scorso, in quanto questi vasetti li avevo realizzati anche l'anno scorso. Sempre nel mio ambito di riciclo, che è una cosa che piace molto. Allora, prendete una striscia di juta, allora io sto utilizzando una misura che ha l'altezza di 10 cm, poi logicamente la dovete adattare al vostro vasetto in questione. Stessa cosa poi la fate anche con il panno lenci. Praticamente la striscia deve andare a coprire più o meno tutto il vasetto, in questo modo, la ritagliamo, in modo che vada di proprio a farmi da vestitino per il nostro vasetto. Bene, tecnica dell'intaglio, come vi ho fatto vedere nel tutorial ieri dei medaglioni in panno lenci, pieghiamo la nostra striscetta a metà. Prendiamo una sagoma, che sia un cuoricino, che sia una stella, la pieghiamo a metà, o me la tagliate direttamente, in modo da avere comunque solo una metà della sagoma stessa. La posizioniamo, allora, nel lato chiuso dell'aiuta, stessa cosa, ripeto, anche se utilizzate il panno lenci, stessa identica cosa da fare. me la posizionate al centro, andate a ritagliare con la forbice punta fina, che andate meglio, e praticamente l'effetto, adesso io mi ero già preparata una, con la sagoma del cuoricino, ecco qui, io praticamente mi sono ritagliata, vi faccio vedere il cuoricino, andando ad aprirla, otterrete un cuore totalmente simmetrico, e quindi l'intaglio sull'aiuta stessa. Ecco il cuoricino, poi logicamente non me lo buttate, lo potete riutilizzare per decorare qualche altro lavoretto in panno lenci. Nota bene, prima che mi dimentico, l'aiuta che sto utilizzando io, è un'aiuta bordata, vuol dire che ha la cucitura sopra sotto, ed è anche un facsimile come fosse stirata con la colla, nel senso che è un'aiuta abbastanza rigida, che non si sfilaccia, infatti, come potete vedere, ho fatto l'intaglio, e non c'è nessun sfilaccio. Poi questo problema, logicamente, non si presenta, utilizzando il panno lenci, che potete benissimo tagliarlo, e non succede niente. Allora, ho fatto il mio intaglio, vado a prendere il mio vasetto, posiziono al centro, per bloccare il tutto, vado ad incollare l'aiuta su se stessa, infatti, ho lasciato sì che si sormonti un po', quindi colla a caldo, ho fatto un po' di gocce, attenzione a non scottarvi, adesso logicamente l'aiuta, e se non traforata, magari utilizzate una vecchia forbici, o qualcosa che avete, in modo da non dover toccare proprio con le mani, perché logicamente dai fori, poi uscirà un po' di colla. Ecco, in questo modo. Bene, abbiamo già rivestito il nostro vasetto, con l'intaglio a cuoricino. Passiamo alla decorazione del giro vasetto. Allora, come potete vedere dai miei esempi, ho utilizzato sia della gavetta, sia anche dei fili di ciniglia, sono quei filetti, che hanno il ferretto all'interno, che si possono girare bene intorno al vasetto, bloccare poi con la colla, e tagliare a piacere. Nel mio esempio, comunque vi faccio vedere, sempre con la gavetta, quindi andiamo a prendere un bel po', insomma, poi a seconda del giro vostro del vasetto, circa, come misura, me la dividete a metà, e così partiamo dalla metà della gavetta, la posizioniamo dietro, e facciamo un po' di giri intorno al vasetto, in modo da ricoprire il bordo superiore. Io mi sa che sono, mi sono tenuta anche un po' larga, con la gavetta stessa, facciamo un nodo, in questo modo, ecco, poi non vi preoccupate, perché comunque poi, il vestitino si può girare, quindi insomma, fate voi il centro, per il fiocchetto, che poi dopo non c'è nessun problema, lo sistemate meglio, poi successivamente. Facciamo un'asoletta, ecco qui, soliti nodini finali, perché sennò il cordino tende a sfilacciarsi, cordino la gavetta, ecco qui, come decorazione, negli esempi potete vedere, tipo, le classiche stelline natalizie, e il nastrino quadretti, le bacche natalizie con il sonnaglietto, e magari un ciondolino, che può essere un alberello, un orsetto, quello che volete, insomma, poi vi potete sbizzarrire. Nel mio di esempio, invece, mi piaceva l'idea di fare una cosa un po' totalmente diversa, e applicare questi nuovi adesivi, che mi sono arrivati in negozio, che sono tipo finta cera lacca, ecco, mi piacevano utilizzarli, quest'anno anche per un discorso natalizio, sono degli adesivi, comunque è sempre meglio metterci un po' di colla, perché poi sennò sulla gavetta non tengono proprio, e me lo vado ad applicare al centro del mio fiocchetto, eccoci qua. Bene, l'interno invece, è proposto sempre di riciclo, so che ci sono le solite sabbiette, sassetti, tutto quello che volete per impiare questi vasetti, o comunque altri centri tavola, se li fate per voi, quindi magari non li regalate, semplicemente del sale grosso, che fa un bel effetto, come potete vedere qui, quindi tipo cristallo, ecco, costa pochissimo, e per quello che bisogna utilizzarli, va più che bene, quindi riempiamo il nostro vasetto di sale, pochettino, logicamente, insomma, poi vi regolate voi, a seconda anche della misura del vasetto, e di quanto che volete, si alzi poi il lumino, che andiamo ad inserire. semplice lumino, inseriamo all'interno, magari lo posizionate bene, poi che vada giù, ecco qua, e io ho fatto il mio porta lumino, fai da te, in pochissimo tempo, con pochissimi materiali, riciclando i vasetti di vetro, anche perché ormai si butta veramente, tantissimo, e allora magari quello che si può riciclare, ben venga, vediamo l'effetto da acceso, ecco poi, un'altra versione, che si potrebbe fare, un attimo che vedo di accendere anche la candelina, di questo nuovo appena realizzato, e si potrebbe fare anche una versione, con le candele galleggianti, allora in quel caso lì, andiamo a riposizionare il lumino al centro, eccoci qua, in quel caso lì, invece di inserire del sale, dentro il barattolino, si mette dell'acqua, con una candelina galleggiante, ecco qua, spero che vi sia piaciuta la mia idea, vi auguro buon lavoro, e con i miei vasetti da riciclo porta lumini, vi saluto, ciao a tutti!